Zelensky è la lettura che ha dato Enrico Letta e nel particolare lui ha detto guardate che il filoputinismo è diffusissimo in Italia. Io ne ho le scatole piene di politici che per forza devono etichettare idee diverse dalle loro come filoputiniane. È un maccartismo veramente che non fa onore a Letta. È difficile per me trovare un politico oggi con il quale sono totalmente in disaccordo come Letta. Non condivido praticamente nulla di quello che ha detto. Mi sembra molto ipocrite il ragionamento che viene fatto oggi da molti politici italiani. Un ragionamento che potrei sintetizzare nel armiamoci ma poi combattono loro. Credo che mandare le armi in Ucraina violi la Costituzione. L'Italia, non la Repubblica, l'Italia ripudia la guerra. Ricordo le parole per me più che condivisibili dell'ambasciatore Massolo quando disse proprio in questo studio Putin presto o tardi vincerà e la retorica che fa Letta. Quindi se non volete mandare le armi state dicendo agli ucraini di arrendersi. Per me è piuttosto stomachevole. Non deve per me passare il concetto che chiunque stia lottando e ha tutto il diritto di lottare per l'amore di Dio per difendersi debba essere armato da un paese che ripudia la guerra. A questo punto io pretendo che vengono inviate delle armi ai curdi e che vengono massacrati da Erdogan, membro nato. O gli Yemeniti che vengono massacrati dall'Arabia Saudita. O perché no, i palestinesi, quali non hanno uno stato anche per colpa di quest'ipocrita comunità internazionale ma vivono sotto occupazione militare e sotto apartheid. E questo lo dice Amnesty International che giustamente parla anche delle violazioni dei diritti umani e Russia. Questi sono fratelli europei. Ah, quindi in base al colore della pelle si inviano le armi, Floris. Alla vicinanza, al rischio che ci coinvolgano. Perché la Libia non era estremamente vicina però è stata bombardata. Per me oggi l'Italia che tra l'altro si è giocata tabacci, abbiamo parlato un ruolo di mediazione importante che non a caso vogliono esercitare i turchi, paese nato contro le sanzioni e contro l'invio di armi, e Israele, paese fratello, quasi gemello degli Stati Uniti d'America, contro le sanzioni e che non invia armi. L'Italia si è giocata questo ruolo di mediazione, concludo, perché veramente Draghi si sta comportando in maniera estremamente suddita rispetto a Washington. Allora, un tema per volta.